Anticipazioni Beautiful, trama puntate, sabato 28 agosto 2021. Bill dice a Katie che lo rende un uomo migliore e che vorrebbe pian piano ricucire. Lei però esausta dei suoi continui tradimenti. Lei spezza il cuore il sol pensiero di dover dire nuovamente a Will che hanno chiuso per sempre. Brooke intanto cerca di far capire a Ridge che con Bill è tutto finito ma lui non le crede. Stizzita la Logan scende al piano di sotto e si invatte in Shauna. Lei dice che lei e Ridge stanno cercando di recuperare il loro matrimonio ma la Fulton precisa che non è disposta a fare nessun passo indietro. E lei la nuova signora Forrester. Poi aggiunge che non avrebbe mai sposato Ridge se non sicura dei sentimenti che l'uomo prova per lei. È pronta a donarle tutta se stessa oltre che fedeltà e rispetto. Nasce una pesante discussione nel corso della quale Brooke insiste e fa capire alla donna che lo stilista l'ha sposata senza volerlo. Era ubriaco ecco perché ha commesso un errore del genere. Amalibu Ridge aggiorna Steffi su quanto accaduto con Brooke facendo ricadere le colpe del disastro su Bill che si è nuovamente intromesso. Grazie a tutti.